Fanno discutere le barriere fonoassorbenti che sono state installate in via Paludicella tra Angri e Sant'Antonio Abate, sul piede di guerra i residenti della zona ma anche gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Siamo qui a fianco dei residenti di questa zona che fino a qualche tempo fa era una delle poche rimaste tra la zona confine tra Angri e Sant'Antonio Abate, ancora a vocazione agricola. Attualmente sono stati installati questi pannelli antirumore che in effetti fanno riferimento allo svincolo, devono creare una rotonda per lo svincolo autostradale che collega l'autostrada 3 con la 268. Poi questo ha un impatto insomma sull'ambientale? Ha un impatto sì, decisamente un impatto ambientale negativo, molto negativo e la cosa che ci fa rabbia è che come al solito si utilizzano due pesi e due misure, cioè per i cittadini che vogliono fare qualsiasi intervento devono passare per normative molto ristrette, mentre invece per le opere pubbliche, queste grandi opere pubbliche dove ci si aspetta che le norme siano ancora più stringenti, invece poi permettono di realizzare questi scempi che oltre a coprire le case coprono anche molti dei territori agricoli, ancora rimasti agricoli. Avete fatto sentire la vostra voce alle istituzioni? Ma attraverso i social diciamo, a parte che i residenti sì, i residenti sono ribellati ma come al solito l'amministrazione è assente, non si interessa della problematica, l'amministrazione abbatese parliamo, non si interessa della problematica, non sappiamo se è venuto a fare dei sopralluoghi, se conosce almeno il progetto che deve essere realizzato perché ancora non si è capito questo.